I draulici, calzolai, fabbri, sarti ormai sono in via di estinzione. A dirlo è l'ufficio studi della CGA che ha elaborato i dati dell'Inps e di infocamere e nuove imprese, tante le botteghe che non hanno più tirato su la saracinesca. Attività si legge nello studio nella stragrande maggioranza dei casi a conduzione familiare che ha contraddistinto la storia di molti quartieri, piazze e vie delle nostre città. A Rezzo è una di quelle in cui le chiusure sono state più importanti da un punto di vista numerico. Dal 2011 al 2023 è scomparso il 24% di queste attività. Solo nel 2011 erano oltre 16.000, nel 2023 sono ridotte a 12.000. I motivi sono molteplici, l'invecchiamento progressivo della popolazione artigiana provocato in particolar modo dalla mancanza di ricambio generazionale. La feroce concorrenza esercitata dalla grande distribuzione e dal commercio online, il boom del costo degli affitti e le tasse. Non tutti i settori hanno subito questa crisi, si salvano quelli legati al benessere, all'informatica e al settore alimentare.